e delle letture e anche in descrizione c'è vi leggo proprio un interessante che cazzo volevo dire è le 12 di questo blè 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 del playlist di vite di e tamara delle p io non dico bla 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 sempre con l'idea che siccome sempre con l'idea che siccome era mantenuto per correre dietro le pecore d'accordo d'accordo sono calmo sto bene benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo e le lunedì letto leggendo leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico cosa ho finito cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro prima di cominciare io mi presento sono sarah eliot e questo è un canale culturale se ti va puoi iscriverti al canale lasciare un mi piace e magari attivare anche la campanella per essere sempre aggiornato su tutti i miei contenuti già lo sapevamo noi sappiamo ogni cosa alla fine del video vi farò una domandina così che possiamo chiacchierare giù nei commenti in descrizione ci saranno anche i link affiliati di amazon per comprare questi libri se compriate da lì a voi non cambia nulla ma a me entra una piccolissima percentuale lo sappiamo si lo so che lo sapete in descrizione ci saranno anche i link a coffee per lasciarmi un caffè sospeso e la wishlist pubblica se volete mandarmi un libro lo so che lo sapete lo so ho capito ho afferrato il concetto iniziamo subito ho finito l'audiolibro di amare un librettino di giulia queen nel sesto volume di bridgerton e come vi dicevo la scorsa settimana è quello che ho preferito più di tutti mi è piaciuto molto di più la caratterizzazione dei personaggi molto meno scontato molto più inverso c'è una donna che sfrutta un uomo per i rapporti fisici e quindi si ribaltano molto i ruoli e due pollici bene bene in alto per la protagonista che bocconcino che bambola di solito la dinamica che viene descritta in questo libro è al contrario tra uomo e donna ergo mi è piaciuto tantissimo e non era per niente scontato cioè di solito nei libri avviene il rapporto e quindi poi subito la donna incinta sempre oppure una vomita quindi non sta mai male o succedono altre cose e difficilmente in libri così allegri di solito capitano aborti questo c'è ed è un trigger warning per qualcuno quindi intanto io ve lo dico passiamo subito e leggendo è iniziato la linea verticale me l'avete visto leggere anche in live è devastante come pensavo però ci sono anche tante cose comiche tutti tutti sfogano la propria rabbia sulla pulsantiera dell'ascensore è molto 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 simile alla serie tv di la rai che era stata prodotta e la trovate su replay non so che altro dirvi so che mi sta facendo sta malissimo mi prende proprio alla gola però penso che magari leggendolo da sola potrò piangere tutte le mie lacrime stare tranquilla così continuiamo così facciamoci del male viate la pazza falla di tamasardi non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto ragazzi non pensavo però vi dico c'è tanta violenza sugli animali intanto io vi avverto vi leggo proprio un pezzo che non riguarda personaggi ma proprio questa cosa che vi stavo dicendo sia dei gli animali che altro sulla filosofia anche un po sul messaggio che vuole mandare ardi la scena si svolge un giorno in cui un pastore si sveglia le sue pecore sono state uccise e vi spiega anche come ossia per quanto si poteva capire le cose dovevano essere andate così il povero cucciolo il cane pastore sempre con l'idea che siccome era mantenuto per correre dietro le pecore più le tallonava e meglio era dopo essersi mangiato l'agnellino morto con cui certo si era rinforzato il corpo e l'animo aveva radunato in un angolo tutte le pecore poi aveva spinto quelle timorose creature oltre la siepe lungo i campi più in alto e a forza di tempestarle aveva dato loro uno slancio sufficiente per fracassare una parte della ringhiera mezza marcia e farle così precipitare oltre il ciglio il figlio di george aveva fatto il suo lavoro così coscienziosamente che fu considerato un lavoratore troppo zelante per poter vivere al figlio di george perché appunto il cagnolino era il figlio di un altro cane che si chiamava george pertanto fu colpito e tragicamente ucciso da un colpo di fucile alle 12 di quello stesso giorno ennesimo esempio di deprecabile destino che tanto spesso persegui da cani e altri filosofi che seguono un ragionamento fino alla sua logica conclusione cercando di mantenere un comportamento rigorosamente coerente in un mondo fondato così tanto sul compromesso l'ho trovata interessante è vero che se pensiamo anche alla cicuta che veniva data da alcuni filosofi e alla morte che ha portato molti filosofi grazie alle loro idee il ragionamento del cane non faceva una piega cioè lui semplicemente le rincorreva perché era il suo lavoro facendolo meglio ha fatto un disastro molto triste però lo sto trovando davvero tanto 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 interessante mi piacciono anche i personaggi per ora tutto a posto ultimo libro in lettura è vite di artiste eccellenti dico e santino d'orazio ve lo sto leggendo in live ve lo dico tutte le settimane vi lascio qui su la playlist in cui ci sono tutti i video in cui lo leggiamo insieme stiamo scoprendo delle donne straordinarie tra cui anche per esempio una pittrice che non conoscevo di nome ma tantissimo per i dipinti soprattutto per questo qui è Tamara de Lempizca 1898-1980 ha vissuto quasi 100 anni praticamente l'ho trovata davvero molto interessante soprattutto la sua vita personale ma anche le sue opere si muove nel jet set internazionale come una dandy tutta il femminile che viaggia tra Europa e Stati Uniti dichiarando la sua bisessualità sposando due uomini blasonati e rifiutando le avanze di d'annunzio tiè due di piccata d'annunzio ma lei è molto più di una pittrice è un'icona con grande spavalderia costruisce il suo personaggio mescolando le carte del proprio passato non rivela a nessuno la sua vera data di nascita e si inventa un passato dalla drammatica vita familiare la sua è davvero una vita da romanzo cui attribuisce l'alone del mito anche grazie ai suoi quadri basti pensare al celebremo autoritratto con caschetto e guanti di daino al volante di una Bugatti verde smeraldo che lei in realtà non ha mai posseduto Tamara è un misto di spavalderia e di abbandono desiderio e di attrazione ma nello stesso tempo di impenetrabilità come i personaggi dei suoi quadri stende sulla tela colori che sono eccitanti e romantici che mette al servizio di una pettura scandalosa e seduciante dove non si preoccupa di disegnare volti e corpi deformi ultima cosa è il leggerò ve l'avrò detto mille volte voglio leggere l'immortalità di Condera dici perché non lo stai già leggendo perché questa è la live questo è l'audiolibro e questo lo sto leggendo con gli occhi diciamo chiamiamola così una volta finito Mattia Torre perché volevo leggere un libro breve allora inizierò Condera che ho già iniziato come avete visto anche nel blog a Lipari io avevo detto che speravo che questo fosse ambientato in Repubblica cieca perché volevo metterlo nella legge in mondo challenge ma è ambientato in Francia a Parigi basta domandina la domandina questa settimana è quanto dolore riuscire a sopportare nei libri mi viene da pensare appunto alla linea verticale andate a periodi quindi come me vi sentite più forti in un determinato momento e quindi dite vabbè leggiamo questo che so che è devastante oppure leggete soltanto libri tranquilli, leggeri senza traumi oppure leggete solo quelli con i traumi una volta avevo consigliato un libro a un amico di Benny e lui ha detto guarda l'ho trovato in biblioteca l'ho letto è molto carino però io cerco cose molto più devastanti quando leggo e per me era una cosa assurda perché io principalmente non leggo per intrattenimento anche per migliorarmi però soprattutto per intrattenimento quindi non leggo per stare male o per torturarmi ma c'è chi lo fa per questo poi esistono libri come una vita come tante basta abbiamo detto tutto e abbastanza e ora non mi rimane che augurarvi buona lettura buona lettura buona lettura